buongiorno e ben ritrovati cari voi tutti amici e seguaci o meno del mio canale youtube in generale di youtube ci vediamo da credo almeno una settimana domenica non ho potuto fare il consueto video ma recuperiamo come si suol dire questo martedì 27 aprile 2021 quasi alle ore 12 e 15 momento in cui sto registrando e ci avviamo quindi già verso maggio diciamo che le belle giornate più o meno penso almeno si devono affacciare come si sta già iniziando a vedere qui non solo a tran come in tante altre città del sud o in generale in italia video che dedichiamo la serie a facciamo appunto il punto della situazione sul campionato sul massimo campionato italiano di calcio maschile di serie a mancano cinque giornate la conclusione quindi la prossima sarà la 34esima nella 33esima le partite e i risultati sono stati seguenti genova spezia 2 a 0 parma crotone 3 a 4 sassuolo sampdoria 1 a 0 benevento udinese 2 a 4 inter verona 1 a 0 fiorentina juventus 1 a 1 cagliari roma 3 a 2 talanta bologna 5 a 0 torino napoli 0 2 lazio milan 3 a 0 io che sono appunto tifoso milanista ma se l'è meritata tutta la sconvita il milan perché è una squadra che non può permettersi anche se potrebbero avere le dovute ragioni che hanno iniziato la stagione dalla fine estate per il preliminare di europa league ma un calo vertiginoso che il milan rischia veramente di uscire dai primi quattro posti della champions per la prossima stagione agonistica prossima giornata come di consueto spalmata in tre giorni abbiamo il primo maggio alle 15 verona spezza le 18 crotone inter alle 20 e 45 milan benevento il 2 maggio anticipo delle 12 e mezza lazio genoa le 15 bologna fiorentina napoli cagliari sassuola atalanta alle 18 udinese juventus alle 20 e 45 sampdoria roma e poi credo il 3 che dovrebbe essere lunedì che coincide per me che sono cittadino di trani con la festa solenne al crocefisso di colonna monday night torino parma vende il 45 ricordiamo che in virtù del fatto che in finale di coppa italia sono arrivate due squadre che comunque sono di piazzamento champions league e cose varie anche il settimo posto è buono per un piazzamento che diciamo però per quando riguarda la conference league la terza competizione uefa che torna a distanza di un paio d'anni quindi appunto i piazzamenti classifiche vedono quasi lo scudetto cucito al petto della maglia dell'intra 79 punti poi situazione davvero importante atalanta 68 tre squadre 66 napoli juve e milan che però occupa il posto europa league secondo cappa o di fila quindi insomma appunto io milanista non me la passo proprio bene in questo periodo lassio sesto a 61 roma chiude la zona posizioni coppa europea settima 55 punti ma dietro c'è il sassuolo 52 san obdoria non 42 verona decima anche se nelle ultime quattro partite 4k o di fila 41 punti poi segue l'udinese a 39 bologna 38 genoa 36 fiorendina 34 spezia 33 33 torino 31 caglioli 31 caglioli 31 zona retrocessione diretta primissimo posto benevento 31 seguono parma e crotone che in zona punto parma e crotone più o meno abbastanza spacciate direzione serie b e invece il duello più o meno si giocherà tutto appunto tra benevento cagliari torino insomma è un po è chiamata anche lo spezia questa ringorsa e la fiorendina insomma si deve assicurare dei punti importanti come insomma già il pareggio casalingo contro la juventus è stato già qualcosa bene io vi saluto come vedete ho cercato di essere meno lungo possibile noi ci vediamo alle prossime volte sapete lo studio della patente al computer continua e speriamo che vada bene quando farò l'esame del penultimo modulo domande belle ricche teoriche però mi sto preparando anche grazie all'aiuto di un mio caro amico quindi come si dice noi ci ribecchiamo qui come al solito ciao